Bella raga, sono Leo Fiori, benvenuti in questo nuovo video, prima che incominci il video iscrivetevi al canale e andate a scrivermi anche su Instagram, trovate qua il mio nome, ci vediamo fra poco, bella Sì, mi stavo per ribaltare figo, eh lo so, mi sono tagliato con la pedalina Mi sa che non ero in seconda Proviamo in movimento, facciamo la curva e apriamogli al palo Eh ma non è possibile Non è possibile Vuoi provare là? Magari è un po' più lungo Cioè dovresti andare tre volte di più Io ho anche raccordi tanto lunghi Anch'io ce li ho un po' lunghi Cos'è che hai te? 12.42 Vai andiamo Si sente che dopo te entri in coppia e arrivi Se apro tutto in seconda mi fa il vuoto Facciamola in movimento Vuoi farla là che è più lunga? Questo ci stava, eh Vuoi fare uno sparo? Io non sto a partire Facciamolo in secondo Oh, più o meno siamo lì Più o meno siamo lì Ma spiccio tanto questo velo No, va, va, va Che rapporti hai che hai? Belli lunghi, belli corti? Eh, ce li hai originali Enduro! Oh, più o meno éeri E' un po' più lunghi, belli corti? Oh, più lunghi… E' un po' 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 più lunghi… Vai dall'ate 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 Allora raga io spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like e iscrivetevi mi raccomando Rimanete sintonizzati che arrivano settimana prossima altri video A presto bella Take you like a bitch A presto A presto A presto A presto